Parliamo oggi quindi del topolino numero 32 84. Iniziamo! Ciao a tutti i recenziani, bentornati sul canale. Io sono Dario e questa è Recenso, la videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm prodotta per l'Accademia Italiana del Fumetto Ucomics. Ogni informazione la trovate sempre qui sotto in descrizione. Vi ricordo anche che potete usufruire del 15% di sconto sui prodotti Funko Pop e Lego utilizzando i codici che trovate qui in sovraimpressione e sotto in descrizione e che sono partite le iscrizioni per i workshop di sceneggiatura, scrivere un racconto e come scrivere un fumetto, come sceneggiare un fumetto. Come al solito ogni informazione la trovate sempre qui sotto. Ora quindi è il momento di parlare finalmente di questo topolino che mi è arrivato quasi una settimana in ritardo, ma ringrazio tantissimo il postino perché si è premunito del fatto, anzi si è premurato del fatto che ploveva tanto e poteva rovinarsi, quindi lo ringrazio anche se non vedrà mai questi video, voglio sperare. Finalmente il conto alla rovescia si è concluso e siamo arrivati a leggere e quindi possiamo raccontarci un poco di quello che è questa storia, tutto questo accadde domani. Storia divisa in due parti, prima e seconda di questo fumetto, che vede finalmente topolino risvegliarsi da quello che è un po' il torpore che lo ha accompagnato in questi tre anni. Di solito le storie del topolino non hanno una continuità, quello che accade in un numero difficilmente si protrae come effetti nel successivo, se non appunto in alcune storie, in alcune linee temporali e questo è il caso appunto di questa storia qui, però prima di leggerla dovete completamente dimenticare quello che sono un po' state le mie teorie per capire cosa significavano le varie storie del conto alla rovescia perché non ci azzecavano praticamente niente di quello che in realtà è la storia qui raccontata. Le mie supposizioni per cui erano quasi tutte completamente sbagliate e quindi la cosa bella di questa storia è proprio il fatto che si riallaccia a quelle storie lì perché diventano quelle una specie di dietro le quinte di quella che è appunto la storia principale. Proprio per questo forse non le avevamo, non le avevo capite. In questa storia quindi topolino si rende conto che vive ormai in una topolinea che non è più quella che lui ricordava e che un po' tutti quanti sono stati asserviti al volere del cosiddetto ingambissimo proprio perché ha una specie di guanto magico che appunto asserve tutti i cittadini di topolinea. Assieme a Minni, Zapotec e Marlin topolino quindi sta architettando un piano con il quale appunto distruggere il potere di questo tiranno. Nella seconda storia questo piano prende corpo e come fare a sottolineare il fatto che c'è una grande intesa, una grande amicizia tra i personaggi che attornano topolino se non appunto nel creare e nel sottolineare il fatto che c'è una grande amicizia tra loro proprio nel momento del bisogno quindi vengono richiamati un poco i personaggi principali di queste storie topolino Minni e Pippo e vengono richiamati addirittura dal passato ed è così proprio che aiutati dai se stessi del passato topolino e Minni riescono a mettere i bastoni fra le ruote alla volontà di questo tiranno il cosiddetto ingambissimo. La storia è veramente spettacolare, meravigliosa da vedere e da leggere e ancora più belli sono i disegni perché qui abbiamo una commistione fra quelli che sono gli stili del presente come viene attualmente disegnato il topolino e quelli che invece sono i tratti originari della fisionomia e proprio dello stile di disegno del topolino di 90 anni fa. Ambedue questi tratti si uniscono a formare una specie di stile ibrido fra i due, una via di mezzo fra il passato e il presente. La seconda o meglio la terza storia che troviamo in questo fumetto è Paperino Paperoga e gli oggetti ritrovati. Un po' come se si fosse fatto infettare da zio Paperone, Paperoga ha messo su un'attività con la quale vuole recuperare gli oggetti smariti e ridarli ai loro legittimi padroni. Un oggetto particolare di questa raccolta è un oggetto top secret, un oggetto che suo malgrado sarà destinato a fare un po' il giro del mondo. La storia è molto interessante e anche molto carina. L'unico difetto che per me è così ma magari per voi no è lo stile di disegno che come al solito deforma i Paperi quasi schiacciandoli a terra facendo perdere un po' la posizione eretta e soprattutto deformandoli nella fisionomia dei becchi. Anche se però ha un punto positivo perché riescono a creare delle belle espressioni facciali per questi personaggi per quando sono basiti, sconvolti o senza parole. La banda Bassotti in colpetto o scherzetto. Troviamo la banda Bassotti nel periodo di Halloween che si traveste per tentare l'ennesimo furto nel deposito di zio Paperone. Deposito che però è posto sotto una luce diversa perché troveranno il portone aperto e delle situazioni che lasciano pensare che la barastro si sia un po' ammorbidito. Saranno poi gli ospiti di questo deposito a mettere i bastoni fra le ruote alla banda Bassotti trasformando questa storia dal disegno molto carino e tradizionale in quella che è una storia seppur breve molto bella da leggere. Zio Paperone racconta tutto gratis finalmente il dottore di zio Paperone lo convince a fare una vacanza lontano dagli affari e porta con sé quindi Paperino perché gli faccia un po' da moralizzatore ossia da notifica per ricordargli che deve riposarsi non deve pensare ai soldi al guadagno. Come fare quindi a convincere zio Paperone a rinunciare a qualcosa che in realtà è gratuito? Ovviamente è impossibile e alla fine dei conti zio Paperone in questa storia molto breve ma disegnata veramente stupendamente farà quasi indigestione di gratuità. L'ultima storia che troviamo è Indiana Pips e la leggenda di un titolo impronunciabile nel quale ovviamente se non poteva essere altrimenti ritroviamo Zio. Storia di Indiana Pips che vede protagonista assieme a lui anche Pippo. I due partiranno per la Corellandia in un paese dal nome impronunciabile perché intenzionati a vedere la migrazione delle foche e scoiattolo. Purtroppo però un mistero a leggia sulla Corellandia perché quella che sembra la leggenda di un animale il cui nome è altrettanto impronunciabile in realtà forse sembra non tanto più una leggenda ma un fatto reale vero e concreto che sta mettendo in pericolo la cittadina. Quindi Indiana Pips e Pippo sono chiamati a risolvere questo insondabile mistero e caricandosi sulla G. Pippa inseguiranno gli indizi e cercheranno di trovare una soluzione in questo mistero che sembra un po' raffigurarli come se in realtà facessero parte della comitiva di Scooby-Doo e per cui mi ha dato tanto quel senso lì probabilmente perché avendo se non sbaglio la stessa età di Sio abbiamo visto anche le stesse cose quindi questo mistero mi sembra tanto prendere quel gusto di quelle storie lì. La storia è molto divertente molto carina molto assurda come solo Sio riesce a fare condensando in poche battute in veramente poche parole dell'umorismo che è impossibile veramente non capirlo e non riderci poi. E la cosa bella è che questo disegno digitale ovviamente seppur molto spigoloso in alcuni momenti e essenziale è comunque disegnato a pennello proprio per questo personaggio per cui anche in questo caso disegno e sceneggiatura vanno fortemente a braccetto fra loro. Non ho trovato in realtà una sceneggiatura flop perché mi sono piaciute un po' tutte quindi nulla da ridire su nessuna mentre la sceneggiatura top ovviamente anche se è difficile da aggiudicare se la giudica tutto questo accadde domani mentre il disegno flop purtroppo perché è lo stile di disegno che a me non è piaciuto lo devo per forza assegnare a paperino paperoga e gli oggetti ritrovati mentre il disegno top anche in questo caso è difficilissimo da dare ma non posso fare a meno di assegnarlo nuovamente a tutto questo accadde domani proprio per la commissione degli stili vecchio e nuovo presente in una storia veramente veramente godibile e con le parole e con i disegni. Questa però ovviamente è la mia opinione per cui io aspetto di sapere voi cosa ne pensate di questo volume cosa ne pensate soprattutto della fine di questo conto alla rovescia anche se in realtà mancano neanche due settimane alla fine di un altro conto alla rovescia ossia gli effettivi 90 anni del topolino anche se in realtà forse dovrei dire una settimana perché questo l'ho avuto con una settimana di ritardo. Aspetto ovviamente voi per sapere la vostra opinione qual è la vostra classifica i vostri top e flop nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per la visualizzazione per aver passato del tempo assieme vi ricordo che sono su facebook twitter google plus ma anche su periscope instagram e telegram non dimenticate di iscrivervi al canale di attivare la notifica di condividere questo video se vi è piaciuto con i vostri amici di farmi sapere se vi è piaciuto cliccando il mi piace e di far visita a www.retrattinocenso.it e di iscrivervi ai gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziani per parlare più a vis a vis. Noi ci vediamo quindi domenica prossima sempre qui sempre sul recenso pronti a sfogliare un nuovo topolino e volare insieme nel mondo della fantasia disney se vi è piaciuto con i vostri amici. Noi ci vediamo adesso ci vediamo adesso ci vediamo